Sono al punto K12, richiedo informazioni sull'estrazione. Nessuno può fare fuori Mr. Morton, eh? Il punto di estrazione? Rilassati, mi dirigo al cancello principale della generale, ti aspetto lì. Provami. Rilassati, mi dirige. 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 Grazie a tutti. 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 Che cazzo, Ak? Sei in ritardo? La porta principale è bloccata. Trovare un'altra percola. Ci sono novità. Ai vienial che vogliono disimpettare la consiglia. Grazie a tutti. 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 Volevo incontrare Mr. Morton. Grazie a tutti.